Salve a tutti giocatori e benvenuti in un nostro nuovo video Rivelate le ultime carte di Wild Survivors Ovviamente le carte OCG che sono 45, da noi saranno 60 Quindi poi quando arriveranno da noi faremo il consueto recappone tattico finale Per rivedere tutte le carte Ma ora andiamo appunto a vedere tutte le carte OCG di questa espansione Prima di iniziare voi sempre mi invito a iscrivervi Il nostro Natale per me ne sempre, il Giove del Mondo di Yugi Grazie mille, mi raccomando E andiamo a vedere le ultime due, no le ultime quattro Le ultime quattro reprint E poi vediamo tutto il set Allora le ultime carte sono l'Ultimate Conductor Tiranno E il Giant Rex che sono fondamentalmente con i box ti fa il dino Manca un po' di roba però insomma il 90% Poi Incantation, Candle e Talismandra E ora ovviamente le andremo tutte a vedere Allora Wild Survivors da noi uscirà il primo giugno Abbiamo i nuovi supporti dino Cioè l'archetipo nuovo barra nuovo supporto dino Con mega zauners gigante Con la carta magia che è veramente grossa Cioè fa tutto lei, è veramente fortissima la nuova carta Trascendent Flight che è molto interessante Soprattutto per le nuove carte Non troppo per il dino che ci sono Ma anche il soul Archetipo che molto probabilmente potrà essere Sviscerato e piazzato in diversi deck Perché ha delle combinazioni molto interessanti Come deck di per sé Questa carta è follia pura Di per sé Ancora non l'ho provato Non so se è malaccio o no Non sembra essere chissà cosa Però non è detto che sia scarsissimo Comunque potrà essere diviso Messo in qualche mazzo Per fargli fare un engine Nouvelle Interessante Molto molto interessante È più forte di quanto si pensasse all'inizio La Galaterrino ti fa sempre Ricicla sul Ti fa pescare due a turno mi pare Questa è un'altra preparazione dei ritmi Cioè C'ha delle robe Veramente grosse Poi con la ricetta dell'hamburger Puoi tributare tutti i mostri dell'oppo Mi pare È veramente Grosso Come Ha alcuni effetti veramente sgravi Poi abbiamo queste qui Che sono le ristampe Chissà se Misto Sauros ci ritorna Tre Che è veramente Lui è veramente gigante Mepisaurus Fondamentalmente queste quattro Anche forse Sauros Con le nuove carte Vi fate già il dino Nella Mancano un po' Tante magie Però insomma Fate un bel po' di roba Probabilmente le metteranno da noi Magari anche La pillola dell'evoluzione gigante E tutto il resto Tra l'altro in due list Nexus Usciranno altri supporti nuovi E queste sono le altre carte Appunto che sono state appena Citate Dette E fatte uscire Quindi anche il giant rex Che se lo rimuove Si rievoca E poi lui che ci piace tantissimo La fierezza del tirannosauro Finale conduttore Cioè lui è È bellissimo Lui è bellissimo Comunque Detto questo ragazzi Fatemi sapere cosa pensate Ovviamente ripeto Set completo cg Le carte nuove E probabilmente Anche tutte le reprint Arriveranno sicuramente Da noi bisogna vedere Le altre 15 carte Che potrebbero essere anche Quelle che stiamo vedendo Anche se Il dinosauro di diamante Non penso Lo metteranno O forse lo metteranno Come carta un po' Un po' Da ambire però Vabbè Diciamo Tante possibilità ci sono Comunque Fatemi sapere voi Cosa sarà pensato ovviamente Noi come sempre Ci vediamo Nel prossimo video E un saluto a tutti